Tachipirina è vigile attesa, che sicuramente mi chiederete, quindi lo anticipo io. Allora, quella era una raccomandazione che veniva fuori dal Ministero. Come tutte le raccomandazioni non sono vincolanti per i medici. Nel corso dell'ultima seduta della Commissione Covid di martedì scorso è stata data la parola a Filippo Anelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici. Riguardo al cosiddetto protocollo Tachipirina e vigile attesa Anelli ha risolto così la cosa. Quello del Ministero non era un protocollo perché non c'erano evidenze scientifiche di cura della Covid-19, ma solo una raccomandazione. Raccomandazione applicabile come prima misura di intervento. E poi, sull'andamento della malattia, il medico era libero di decidere in scienza e coscienza sulla base delle sue convinzioni terapeutiche. Purtroppo, questo non è vero. I medici non sono stati affatto liberi di curare in scienza e coscienza esercitando quella libertà prescrittiva che gli è concessa dalla stessa legge. Prova ne ha il fatto che centinaia di camici bianchi sono finiti nel mirino proprio dell'ordine per aver esercitato quella libertà prescrittiva, anche su base empirica, che stava dando risultati eccellenti in termini di guarigione e mancati ricoveri. In alcuni casi sono stati persino sottoposti a procedimento disciplinare dell'ordine, e altri, addirittura, sono finiti a processo. Quasi tutte le esperienze di cura in forma associativa sono state disincentivate, censurate e bollate come stregonerie. Anelli ha anche detto qualcosa a proposito dell'idrossiclorochina. Per esempio, alcuni di noi l'hanno prescritta, ha spiegato. Ma quando sono emerse le evidenze scientifiche che non c'erano miglioramenti significativi, allora è stata abbandonata. Un altro clamoroso abbaglio, dato che come abbiamo spiegato più volte, la condanna dell'idrossiclorochina nelle terapie Covid avvenne sulla base di uno studio di Lancet poi ritrattato e su pregiudiziali più politiche che mediche. Completamente assente ogni riferimento alla terapia al plasma iperimmune i cui risultati erano straordinari, ma che è stato accantonata e bocciata da studi fabbricati ad arte.